F1 F1, Force India, Fai Dao con Perez, il team USA ha il pugno duro, ma il messicano vuole partire. . Dopo il GP del Canada e la gara di Baku, la Force India ha vissuto un altro weekend nero dal punto di vista della faida interna. . Per due volte, i piloti sono arrivati al contatto e a farne le spese è stato solo il team, che ha perso punti importanti della classifica costruttori, dato che Perez è stato costretto al ritiro per i danni riportati dalla vettura, mentre Ocon, 9 grado al traguardo, ha perso due posizioni, a causa dell'ala danneggiata e di un pit forzato. . Già dopo lo start, in uscita dalla curva della Surce i due erano arrivati al tocco, con la vettura di Ocon che stava quasi per decollare, dopo il contatto tra l'anteriore SX del francese e l'anteriore DX del compagno messicano. . I due hanno continuato a lottare per tutto il GP, fino a quando, dopo il pit di Ocon, si sono trovati vicini nuovamente, con il francese che, con gomme più fresche, ha provato ad attaccare subito il messicano, che lo ha stretto contro le barriere così, per evitare il muro, Ocon ha colpito la posteriore di Perez, forandola e danneggiando anche il musetto. . Per evitare altri episodi, il team ha deciso di usare il pugno duro e vietare ai piloti di duellare liberamente in gara. . E il direttore sportivo della Force India, Otmar Zafnauer, a prendere in mano la situazione, ho visto solo le immagini televisive e si vede Sergio che stringe Esteban contro il muro. . . In futuro non avranno più la possibilità di confrontarsi, finora li abbiamo lasciati libere di correre, ma ora basta. Visto che non sono capaci di duellare senza creare problemi al team, li dovremo gestire. . . Dopo l'incidente di Baculli avevamo avvisati, la prossima volta sarà l'ultima, ma è stato inutile. Dalla prossima gara se saranno a stretto contatto interverremo dalla Pitlane. . Dopo la gara, poi, non si conclude la faida ed è l'esuberante Esteban Ocon a riaccendere la miccia ed attaccare. . Il francese accusa il messicano via Twitter e sembra avere pienamente ragione, dopo Baculli, perché questa volta non ha alcuna responsabilità nel contatto, oggi abbiamo disputato una buona corsa, fino a quando Perez non ha cercato di uccidermi un paio due volte. . 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